Raffica di multe nei pressi del sottopassaggio di Via Veneto, 25 cittadini in bicicletta sono infatti incappati nella rete di controlli predisposta dal comandante della Polizia Municipale di Arezzo, Ingegner Baldini. Un controllo capillare nella zona che da Via Vittorio Veneto porta alla stazione, in Piazza Guido Monaco, e che era stata al centro delle polemiche per l'installazione dei cavallotti antibici che inizialmente non permettevano il passaggio dei disabili. Dopo le polemiche e le proteste erano stati poi distanziati. Il vice sindaco Gamurrini aveva giustificato la loro presenza come deterrente per disincentivare il costante passaggio delle biciclette in un sottopassaggio riservato ai pedoni. Nonostante i cavallotti però le biciclette continuavano a passare indisturbate. Così è scattato il maxicontrollo e sono fioccate ben 25 multe ad altrettanti cittadini in bicicletta. Il controllo non si è limitato al rispetto delle regole del codice della strada, ma è stato esteso anche al rispetto della normativa sulla regolare presenza degli stranieri sul nostro territorio. Sono stati accompagnati in questura per i rilievi fotosegnaletici due cittadini extracomunitari. Numerose sono state le violazioni contestate anche per l'uso del cellulare durante la marcia. I controlli sono iniziati alle 8.30 della mattino di giovedì e sono terminati alle 18.30 con l'impiego di due pattuglie per turno affiancate dagli spettrici Monica Crestini e Laura Ricci, con la presenza del vicecomandante Lunghini. Il comandante Baldini promette altre giornate di questo tipo anche in orari diversificati e notturni.